ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture don caloroso saluto a tutti quanti all'ascolto sia a chi mi segue da tanto con tanto affetto e vi ringrazio e anche ai nuovi che mi ascoltano adesso per la prima volta quindi vi invito ad iscrivervi a questo canale e attivare tutte le notifiche per ricevere appunto le notifiche di nuovi video allora proseguiamo con questo nostro cammino con questa nostra crescita personale molto importante e a quale ho voluto dedicare proprio questo capitolo dei sette raggi e i cinque raggi occulti allora oggi parliamo appunto del quarto raggio il quarto raggio divino che è il raggio bianco invito tutti comunque a seguire la playlist completa che trovate sempre su questo canale vi metto tutti i link nella descrizione del video appunto la playlist dei sette raggi e associata ad ogni video di ogni raggio c'è anche la playlist delle note tonali le note tonali sono quelle particolari frequenze e note associate e che entrano in maggior vibrazione con gli esseri di quel raggio di quel giorno quindi è molto importante non solo recitare i decreti ascoltare chi sono gli esseri di quel raggio capire le loro particolarità la particolarità di quel raggio che cosa va ad irradiare quali sono le qualità di quel raggio ma anche ascoltare le note tonali perché ci fanno entrare proprio in risonanza in vibrazione molto forte appunto con tutto quello che è quel raggio e oggi appunto ci occupiamo del raggio bianco allora quello che vi dico oggi il materiale che vi leggerò è preso dalla editrice italica vi faccio vedere del materiale per chi piace sapere chi vuole leggere anche per sé lavorare da sé questo è molto importante è nuovo questo libro sempre della collezione metafisica della editrice italica che si chiama i sette raggi e i cinque raggi occulti questo è uno poi abbiamo quello che è uscito prima di thomas prince sempre della stessa casa editrice che si chiama meditazioni quotidiane da qui prenderemo oggi proprio la maggior parte dei decreti da fare poi ovviamente ognuno per conto proprio poi abbiamo anche telos 4 le sette fiamme sacre di aurelia lewis jones dove ci sono anche qui delle diciamo dei decreti da fare delle per potenzializzare potenzializzare proprio quel raggio no in specifico sul quale stiamo lavorando e poi abbiamo la metafisica molto importante per capire i concetti di base di che cosa stiamo parlando qua di conny mendes questi sono proprio sono fatti benissimo perché racchiudono anche tantissimo materiale 4 in 1 4 in 1 come vedete il volume 1 che questo qua e il volume 2 che è questo qua queste sono le letture consigliate a chi interessa ovviamente questo argomento adesso vi vado ad illustrare le peculiarità di questo raggio quali sono diciamo i cristalli anche se è chiaro già lo vedete abbiamo tutti i quarzi di alini quarzo cristallo di rocca e quali sono gli aromi quali sono gli elohim di questo raggio quali sono i direttori o chohan di questo raggio e tutti gli altri esseri cosmici ascesi che comunque lavorano anche meno conosciuti se vogliamo ma non per questo meno importanti perché tanti seguono semplicemente quello che più si dice quello che più si sente in giro ma non è così che funziona ci sono tanti altri esseri altrettanto importanti come i maestri ascesi direttori di quel raggio non è che perché il maestro asceso è più importante quegli altri non contano niente contano tanto tutti quanti quindi vi pregherei di farli comunque tutti quanti allora partiamo partiamo con le peculiarità di oggi di questo raggio il quarto raggio bianco appunto abbiamo detto ci prepariamo mi raccomando sempre guardate nella descrizione tutto quello che riguarda la playlist delle note tonali e altri link per voi link di interesse compresa tutta la playlist di tutti i raggi dal primo al settimo finito il settimo faremo poi cinque raggi occulti ricordo che metterò un raggio a settimana perché ci vuole tempo dovete proprio digerire capire bene proprio interiorizzare tutto quanto la fretta non porta da nessuna parte quindi la programmazione del canale quinta dimensione letture comunque rimane uguale e una volta settimana metterò appunto un ulteriore contenuto come già ce ne sono tanti di crescita spirituale per voi allora partiamo il raggio bianco che è il raggio numero 4 quindi quarto raggio bianco il colore è il bianco cristallo nelle sue diverse gamme ok le virtù caratteristiche sono l'armonia armonia tramite il conflitto la bellezza l'arte la disciplina i grandi affetti tenaci simpatia coraggio fisico agilità di intelletto e di percezione equilibrio purezza trasfigurazione resurrezione e ascensione il chakra corrispondente è il chakra della base giorno della settimana in cui più attivo è il mercoledì il direttore detto anche chohan di questo raggio è il maestro asceso serapis bei gli elohim sono chiarezza e astrea gli arcangeli del quarto raggio bianco sono gabriele e speranza l'arcangelina speranza gli aromi sono il rosmarino e il giglio le pietre il cristallo di rocca appunto il quarzo e il calcedono bianco la nota musicale è il fa voi mi direte magari ma che cosa significa allora quello che vi dico oggi è più in risonanza con oggi con questo raggio quindi con il mercoledì va bene quando è mercoledì dovete sapere che queste cose che vi ho detto ora sono più in risonanza quindi andrebbe meglio farle magari il mercoledì piuttosto che il giovedì lunedì o il sabato ecco questo è il discorso no perché perché c'è bisogno di connettersi con questo raggio come ci possiamo connettere con questo raggio allora innanzitutto recitando i decreti primo pensando in modo particolare cercando di connetterci in modo particolare con i maestri con gli esseri di luce di questo raggio arcangeli eccetera elohim che adesso vi vado ad illustrare vi metto anche l'immagine di queste di queste bellissime entità di luce quelle che ci sono quelle di cui si ha notizia quelli che non ci sono non le vedrete ma vi metterò comunque il nome un'altra buona cosa per connettersi con i raggi è l'abbigliamento quindi comunque mettersi in questo giorno in particolare il bianco per esempio oggi quarto raggio bianco ci vestiamo di bianco basta anche solo un accessorio come le scarpe la maglietta il pantalone o la borsa insomma qualcosa di bianco magari fate in modo che oggi ci sia l'aroma se lo abbiamo negli oli essenziali possiamo usarlo negli incensi va bene quello che voi volete e che voi avete comunque in casa quindi anche questo fa tutto parte della connessione globale di questo giorno mettere piuttosto quell'incenso piuttosto che un altro no usare il quarzo appunto ialino e le altre le altre pietre cristallo di rocca il calcedone eccetera perché perché oggi è più risonanza questo cristallo quindi perché no tutto aiuta quindi mi raccomando così come ascoltare le note tonali anche questo fa entrare più in risonanza voi con gli esseri di quel raggio gli esseri appunto del quarto raggio sono proprio i seguenti il maestro asceso Serapis Bey che è proprio il Chohan quindi il direttore del quarto raggio è anche gerarca del tempio della fiamma dell'ascensione e della fratellanza di Luxor questo è molto interessante quando la fratellanza di Luxor viene invocata gli esseri che ne fanno parte arrivano immediatamente in nostro aiuto elevandoci ad uno stato di armonia e perfezione bene quindi ascoltate proprio anche le note tonali dove c'è anche quella di Serapis Bey e proprio della fratellanza di Luxor poi abbiamo gli Elohim Chiarezza e Astrea che sono appunto gli Elohim del quarto raggio bianco e si occupano proprio di purificazione che è proprio la loro attività in questo raggio esprimono la purezza di obiettivo purificano ogni energia che si è caduta dalla purezza originaria quindi anche loro insomma hanno un ruolo molto importante poi abbiamo gli Arcangeli Gabriele e Speranza dove la loro attività è la fiamma della resurrezione e della vita dell'invisibilità ad ogni imperfezione e dell'annunciazione anche loro con le loro note tonali molto interessante il mantello dell'invisibilità dell'Arcangelo Gabriele che poi decretiamo e invochiamo questo mantello appunto rende chi lo invoca invisibile e invincibile ad ogni energia inferiore alla perfezione quindi vuol dire che quando invochiamo questo mantello dell'Arcangelo Gabriele e lo invochiamo col cuore nessuna energia negativa e distruttiva ci può toccare o entrare nel nostro spazio pensate che grande grandissimo dono l'Arcangelina Speranza ci insegna che la speranza è eterna è sempre presente anche nelle ore più buie e nelle prove più pesanti proprio della nostra vita la Lady Venus è la gerarca del pianeta venere è proprio il complemento divino di Sanat Kumara lavora nel raggio cristallo della bellezza ed è nota anche come la dea della bellezza Amen Bey è un maestro asceso del raggio bianco e fratello di Serapis Bey e di Tutan Bey anch'esso è originario del pianeta venere poi abbiamo Tutan Bey appunto che è il fratello di Serapis Bey e di Amen Bey anche egli originario del pianeta venere e serve nella fratellanza del tempio dell'ascensione a Long Island e a Luxor poi abbiamo Lamurai il dio dell'armonia che è anche conosciuto come appunto dio dell'armonia è un immenso essere cosmico sostiene il fulcro dell'armonia nel pianeta terra e dona proprio a chi lo richiede un immenso servizio accelera l'azione vibratore dei veicoli inferiori con la potente fiamma bianca dell'armonia molto importante Sonata è Lady Sonata appunto un essere cosmico che lavora nella quarta sfera e la qualità cosmica e l'armonia presta servizio insieme all'amato Serapis Bey e all'amato Lamurai che abbiamo detto poc'anzi L'Emuel è un lord ed è gerarca del ritiro della forza e dell'equilibrio edevico appartiene al regno angelico e venne per la prima volta sulla terra con l'arcangelo Michele la dea della luce è un grande essere che si è offerto di essere al nostro fianco come sorella cosmica di luce molto importante anche la dea della luce perché quando la invochiamo ci dà un grande insomma un grande servizio molto importante ci chiede la dea della luce di non abbassare mai la guardia di mantenere un costante collegamento con la divina presenza io sono e di invocare le nostre vesti di luce quotidianamente perché dice in questo pianeta le energie basse sono sempre in agguato quindi può essere invocata molto importante la dea della luce per sradicare le energie basse delle forze minori ovunque e in qualunque modo si stiano manifestando abbiamo anche il decreto per lei poi da recitare l'arcangelo della restaurazione perché perché stiamo ricevendo un grande aiuto dai grandi esseri cosmici proprio per la restaurazione del piano divino tra di essi c'è appunto un essere galattico di immensa evoluzione conosciuto proprio come arcangelo della resurrezione perché ha proprio insomma il suo lavoro è proprio quello di restaurare il piano divino tra l'altro l'arcangelo della restaurazione è il padre spirituale dell'arcangelo Michele lo spirito cosmico della risurrezione porta la fiamma della resurrezione di color madre perla che è una fiamma che agisce nel quarto e nell'ottavo raggio questa fiamma di resurrezione porta nuova vita e aiuta a superare la coscienza della morte poi abbiamo la dea della purezza che rappresenta proprio la qualità della purezza per la terra e il direttore dei costruttori della forma che è un potente essere cosmico e il suo nome rappresenta proprio il servizio che offre alla vita è il responsabile delle energie di tutte le forme sul pianeta terra dei nostri veicoli fisico eterico emozionale e mentale va bene ci invita ad invocare attivamente la fiamma violetta nei nostri veicoli per dissolvere le distorsioni di forma che possiamo aver assunto a causa del malutilizzo della vita adesso partiamo con le recitazioni allora quindi abbiamo detto mercoledì quarto raggio bianco che appunto della purezza resurrezione e ascensione facciamo come sempre un attimo di centratura respiriamo visualizziamo appunto un bianco proprio cristallo una luce forte bianca pura proprio la luce divina quindi un attimo di concentrazione e partiamo con il decretare che è importantissimo il quinto chakra in azione che muovete proprio l'energia andiamo amatissima presenza di dio io sono in me e amato essere cristico dentro il mio cuore ti amo e ti adoro tu conosci la ragione del mio essere attraverso le energie del mio mondo oggi fai che io la compia aiutami ad utilizzare le mie energie affinché possa compiere ciò che è giusto e buono fa che io non perda una sola opportunità che io non commetta errori di nessun tipo e soprattutto che non commetta errori di omissione amato gabriele ti amo ti benedico e ti ringrazio per tutto quello che significhi per me e per tutta l'umanità carica questi miei decreti con la tua energia cosmica d'amore io sono la resurrezione e la vita di tutto il bene presente nella mia corrente di vita io sono la resurrezione e la vita della mia eterna gioventù e bellezza perfetta vista e udito forza illimitata energia e salute io sono la resurrezione e la vita della mia profigione illimitata di denaro e ogni cosa buona e perfetta io sono la resurrezione e la vita d'ogni perfezione nel mio mondo e nel piano divino che in me si sta compiendo in questo momento amato maestro serapis bei ti amo ti benedico e ti ringrazio per la fiamma dell'ascensione che rappresenta il ritorno alla casa del padre per me e per tutta l'umanità nel nome della mia amata presenza di dio io sono e in quella di tutta l'umanità ti invoco amato serapis bei insieme a tutta la tua gloriosa fratellanza bianca affinché manteniate accesa la fiamma dell'ascensione risplendendo affinché manteniate accesa la fiamma dell'ascensione risplendendo nei miei sentimenti nella mia mente nel mio corpo fisico ed eterico nella mia casa nelle case dei miei cari nei miei affari e in tutti i miei compiti che questa stimolante attività elevi tutto il mio mondo all'amore alla felicità all'abbondanza alla vittoria e alla perfezione di ogni specie sostenuta per l'eternità portami alla vittoria della mia ascensione quando il mio servizio qui sulla terra sarà compiuto mantenete risplendente mantenete risplendente mantenete risplendente la fiamma dell'ascensione negli impegni mondiali negli affari nei pensieri nei sentimenti e nelle azioni di tutte le correnti di vita che stanno evolvendo sulla terra e fate che raggiungano più rapidamente la perfezione vi ringrazio tutti i decreti li trovate completi nel sito che vedete comunque nella descrizione del video per questioni di spazio e proseguiamo sempre concentriamoci nel nome della divina presenza di dio io sono amato maestro serapis bei e amata fratellanza di luxor venite ora e ascendete questa situazione a una vibrazione di divina armonia e perfezione grazie padre madre nel nome della divina presenza di dio io sono amati chiarezza e astrea purificate il corpo astrale di questa persona e liberatela dagli attaccamenti a questa imperfezione amati chiarezza e astrea purificate 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 ogni energia inferiore alla perfezione di dio qui ora e sempre grazie padre madre amata signora astrea amata signora astrea con il tuo cerchio e spada di luce elimina dall'atmosfera della terra ogni mago nero che ancora possa essere rimasto qui portalo al sole centrale affinché le sue energie vengano ripolarizzate in luce grazie amata astrea nel nome della divina presenza io sono invoco l'amato arcangelo gabriele e la fiamma della resurrezione della vita affinché risorgano la perfezione in questa situazione persona o cosa grazie padre madre grazie grazie padre madre amata dea della luce porta la luce di tutti i soli in questa situazione e fa risplendere le qualità divine là dove prima erano assenti dea della luce dammi luce 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 e più luce grazie padre io sono la restaurazione del piano divino di perfezione in ogni essere umano io sono la restaurazione del piano divino del pianeta luce terra io sono io sono io sono la resurrezione e la vita della purezza e speranza in azione dell'amato maestro asceso serapis bei dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la li la resurrezione della purezza e speranza in azione dell'amato maestro asceso terapis bei dentro io sono io sono la resurrezione della vita della purezza e speranza in azione dell'amato maestro asceso serapis bei dentro il mio essere e nel mio mondo oggi molto bene vi ricordo che questi sono i decreti appunto da fare nel quarto raggio bianco e tutti gli esseri di luce adesso collegati importante ascoltare anche le note tonali che sono nella playlist apposita quindi vi invito ad andare a vedere nella descrizione del video vi metterò proprio la playlist apposita per questo raggio così come per tutti gli altri raggi quindi mi raccomando chi interessa questo è un ottimo lavoro da fare va bene per proprio crescere aumentare sempre di più l'energia detto questo vi ringrazio sempre molto di seguirmi spero che lavoriate perché c'è bisogno tanto di luce tanto di aumentare proprio l'energia per tutto il pianeta per tutta la terra e anche per noi stessi comunque per raggiungere l'ascensione va bene vi ringrazio molto e vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video grazie mille ciao a tutti